Forza Lazio! Forza Lazio! 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 Cercare di battere la Lazio o guantare il pareggio, una partita difficile, diciamo che la Lazio in questo momento sbaglia difficilmente anche l'interpretazione della gara, nonostante la sofferenza negli ultimi cinque minuti dopo il carcio di rigore al novantesimo di Criscito si è compattata, non ci sono state sbavature e le occasioni da gol del Genova non ci sono state, la porta di Stragoscia non ha corso nessun pericolo nel finale, per cui anche se la sofferenza è stata tanta, è stata una vittoria meritata, onore al Genova come lo era stato per il Parma e per il Verona, tre squadre che hanno ritrovato una propria identità e molto probabilmente la Lazio le ha incontrate nel loro momento migliore, per cui ancora di più il pareggio di Verona, le vittorie di Parma e di Genova hanno un valore per il proseguo del campionato, adesso bisognerà recuperare energie nervose e anche recuperare acerbi, speriamo che la sua assenza non sia di lungo corso, per questo problema al polpaccio di giovedì nel corso dell'allenamento, ha provato a recuperare prima della partita, ma sicuramente lo staff sanitario ha sconsigliato il suo uso, ma bravissimo, è stato bravo a sostituirlo e devo dire che veramente ha dato compattezza nella fase difensiva, sembrava un giocatore che era da tanto tempo inserito in questo meccanismo, per cui onore, veramente faccio i complimenti a Vavro, perché sicuramente ha proseguito nel suo lavoro in silenzio, nonostante le critiche e probabilmente il lavoro dello staff di Simone Inzaghi lo ha aiutato tantissimo, grande partita di Radu che ha finito con i grampi, buona anche la partita di Marusic, una partita di sostanza, un grande gol mettendo il fisico tra i due giocatori del Genova, ma durante tutta la partita, veramente una partita fatta di attenzione, di grinta, di carattere e diciamo anche di qualità. Lui Gasleiva ha fatto un lavoro scuro, ma ormai le squadre avversarie cercano di annullarlo, per cui in questo momento la Lazio deve sempre comunque cercare delle alternative per la proposizione del gioco e oggi Luis Alberto ha svolto un lavoro incredibile tra la fase offensiva e la fase difensiva e quella di impostazione, veramente incredibile. Forse oggi come non mai lo abbiamo visto anche in sgroppate lunghe per portare via il pallone, ma anche per portare il pallone e cercare di effettuare l'ultimo passaggio per i propri compagni nella fase conclusiva. Forse alla Lazio per completare l'opera manca un pizzico di cinismo in più, cercare di arrivare e farsi belli al limite dell'area di rigore con questa fitta tela di passaggi, non vuol dire poi dopo eventualmente arrivare a fare una conclusione in porta, un po' come era successo a Correa che ha tirato addosso a Perin, invece di andare a cercare forse una soluzione un po' più di fino, vista la tecnica che ha il giocatore laziale. L'inserimento di Lazzari ha dato un po' più di corsa sulla fascia per finire la partita, anche se poi da un suo errore prima nella fase del fuorigioco non perfetta e poi sul calcio di rigore probabilmente per andare a ovviare a questo tipo di situazione sul fuorigioco ha commesso questa ingenuità anche se il tocco è venuto da parte di Pandev su una gamba per cui è stato tutto un rimbalzo. Comunque calcio di rigore poi realizzato da Grisci. Conclusione di partita fenomenale per i di 4.000 tifosi della Lazio che hanno sostenuto dall'inizio alla fine la squadra e sono stati premiati con una grande prestazione sotto il profilo caratteriale e fisico. Si prosegue questa corsa, continuiamo a non dire nulla, andiamo avanti, sempre e comunque Forza Lazio! Forza Lazio! Forza Lazio! Forza Lazio!